ciao a tutti ragazzi qui è bluelight e benvenuti in questo nuovo episodio oggi andremo nella grotta non la grotta dell'altra volta ma un'altra grotta che ho trovato vedete il segnellino giallo allora intanto vi faccio vedere qui ho quasi completato di mettere le patate su tutto il campo e inoltre io volevo far vedere una cosa vedete ha aggiunto un'altra mucca e vi volevo far vedere come si può aggiungere un'altra mucca ancora allora diamo del grano a questa mucca a quest'altra mucca andiamo ok e guardate adesso che succede abbiamo si accoppiano esce fuori una terza mucchetta che poi crescerà e che quindi faremo un allevamento di mucche sempre più grande ok era giusto per far vedere vedere come si aggiungevano delle mucche senza fare senza trovarne altre accompagnarle verso il recinto allora prendiamo l'icomaggiamento per andare in grotta allora il secchio d'acqua prendiamone uno che non c'è niente usiamo il grano allora la spada è meglio se me ne faccio un'altra di ferro il piccone c'è niente usiamo due diciamo così la palla va bene l'arco ok le precisi sono 26 ok poggiamo il ferro la boomi sticchetti li teniamo allora prendiamo anche un po' di legno non si sa mai no questo qui 15 va bene così vedremo se potrà essere utile prendiamo la nostra acqua e andiamo verso la grotta intanto ho preso uno di legno quella di alberi le sono cresciute molte foglie ne ho preso un pochette un pochino e poi ho rimesso gli alberi però mi ha dato molti alberelli sia di betulla che di legno di albericoli normali non ti voglio uccidere tranquillo da mangiare si ce l'ho basta otto attento ce ne serve già uno allora in questa grotta speriamo di trovare qualcosa di più del ferro non lo so altro oro della reston dei lapislazzoli non lo so magari diamante speriamo che ci servirà per affrontare i nemici allora qua non si può salire quindi rompiamo qua mancano 200 metri scendiamo 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 non è questa qui questa grotta l'ho trovata esplorando il mondo ho trovato questa strana grotta perchè è un buco più o meno specie di buco e scendiamo e scendiamo e scendiamo e scendiamo ok ok adesso l'acqua continuerà quindi andiamo giù insieme all'acqua ok ci stoppa qui e andiamo a vedere andiamo un po' proviamo ad andare di qua proviamo qualche torcia vediamo il carbone magari se ci finiscono le torce le possiamo fare altre vediamo guardate i mob che ci sono nella mappa quelli verdi dovrebbero essere i pipistrelli ok andiamo allora di qui qua mettiamo una torcia l'accia del ferro c'è pure un bel ragno scendiamo piano piano là c'è dell'ossidiana ossidiana pure della lava abbiamo questo ferro e poi vediamo scendiamo c'è anche la zombie usciremo con l'arco che sta vicino ok liscio adesso ho sceso andare di qua facciamo un acere qui c'è l'altra lava meglio di no facciamo altre torce diamante no così in bella vista strano guardate questo zombie con l'armatura con la torcia in mano ha fregato una torcia aiaiaiaiaiaia no 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 non ci siamo capiti non ci siamo capiti ho trovato il diamante no 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 dai 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 no 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 troppi mob troppi mob mangiamo oddio ho paura chiudiamoci chiudiamoci ok Addio, prendiamo un attimo un po' di cuori Subito La spada si sta rompendo Quindi prendiamo subito quest'altra Ho notato che ci sono tanti mob Le zombie con tutta l'armatura Non ci ho notato niente No Recuperiamo i cuori Subito Un brivido Aspettiamo un po' Ho paura di uscire Però aspettiamo ancora che i cuori Avanzino L'armatura qui Stanno rompendo solo uno di ferro Mettiamo un po' Un'altra scena Mamma mia Ok Ah perché sta sotto Un pezzo di stone Ok Diamante dove era? Il diamante era qua Eccolo No Ma questo vabbè Mi aspettava Guardali Guardali come mi aspettavano No 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 Quello che mi Che è più pericoloso È l'arciere Perché Mi fa molto male con l'arco Vieni qua Vieni qua Tutti Ti aspettiamo a me Prendiamo subito il diamante Sì Il mio primo diamante Due Bene Il mio diamante Non lo so Ho paura di fare un altro ceretto Ah c'è della resta Però ci sono tantissimi mob Tanti 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 Prendiamo un enderman Scendiamo qua Torce Prendiamo questo resto Andiamo a chiudere qui Un attimo Ok Così Voglio proteggersi Un solo Blocco di resta Ok Andiamola un po' di Blastone Un altro Torcia La c'è Ossidiana La c'è Un creeper E ho visto L'altro diamante La pislazzoli Bene bene Tutto Quello che volevo Continua La pislazzoli Vero tanti Andiamo 44 Ma c'è il ferro Carbone Vediamo altro Carbone Allora vediamo Quanto Oh bravo Sono 17 17 Prendiamo un altro po' Così la usiamo Per Tappare la lava Facciamo così Facciamo le torce Ok Facciamo la qua Uno zombie Ho paura che qualcuno Mi viene da dietro Non lo so perché Sempre che magari mi spinge nella lava Chiudiamo Ecco Che c'ho qui Il legno Vediamo un altro po' di cobblestone Vediamo quel diamante E poi torniamo su Vediamo un po' Nove Deve bastare Chiudiamo qua Acqua Ok Abbiamo Uno Buono Due Pore di loro Vediamolo Continuiamo A vedere se c'è Un altro diamante Vediamo un po' di cobblestone Poche possibilità Ci proviamo Vediamo Vediamo pure qua sopra Vediamo qualcosa Ferro Ferro Vediamo Uno Due Tre Quattro Cinco Sei Resto Sette Oddio quanto ferro Oddio Penso che ho trovato delle lava Invece ho camminato sopra la resta Che si era illuminato Vediamo Ok Io direi Di tornare a casa Vi rotto quel piccone Torniamo l'altro E torniamo a casa Ok Sogniamo le torce Torce Sogniamo qui Altro oro Facciamo questo creeper Anzi Facciamolo scoppiare Ma Tanto Non ho tempo da perdere Con tutta la roba che ho trovato Devo subito tornare a casa No Un altro creeper Mannaggia E' te Ho fatto più un colpo No No Chi c'è Un arciere No L'arciere No Cadi di sotto Saliamo Via 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 Loro Tornerò Qui abbiamo messo la torce Sì Siamo venuti all'assoro Quindi andiamo Bene Qua è la nostra acqua Quindi andiamo Prendiamo E andiamo Torniamo su Piano piano Andiamo Passiamo di lato qua Così Ok Andiamo Andiamo Ho trovato tutto quello che volevo Per fortuna Scusa Ho sbagliato qui Prendiamo su Ok Prendiamo un po' Bene Abislazuli Oro Restone Allora Andiamo Con una lentezza Proprio Proprio Due all'ora Vai No È giorno Penso che era Ancora notte Quindi avevo paura Di incontrare Di incontrare Qualche Mob Andiamo Ho trovato davvero tanti Dentro questa grotta Che fortuna Tutti gli arcieri Li odio Andiamo 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 Ok Prendiamo subito a casa Le pecore Vediamo Diamanti Ferro Tutto Ho avuto davvero molta fortuna Quanti diamanti ho? Quattro Ci posso fare O una spada O un piccone O Stivaletti Però Non lo userò E aspetterò E prenderne altro Andiamo Mancano 200 metri Acqua Acqua Aia 200 190 Andiamo Di alberi Davanti Manca poco 100 metri Dai Mamma mia Che pizza Ok Siamo arrivati Non cediamo qua Ok Vedete che bello Il campo di patate C'è anche un maiale No Andiamo a fuggere questa roba Gli alberi Vedete Sono cresciuti Quasi tutti Giusto Quei due Ok Allora Roba Peziosa La lasciamo qua Così Il secchio Lo lasciamo Il resto Nella pescazzoli pure Andiamo a cuocere Sbagliato Il ferro L'oro E il ferro Comentiamo Altro carbone Ok Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Spero vi sia piaciuto E lasciate un mi piace Commentate E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi Ciao a tutti da Blue Light